Roma, piazza del popolo, è tempo di Natale, un appuntamento al quale non mancare è la mostra internazionale d'arte sacra Venite a Doremos, alla chiesa degli artisti, una delle due chiese gemelle che delimitano la piazza verso il celebre tridente. La mostra giunge alla sua sesta edizione, confermandosi come uno degli eventi artisticamente più interessanti e spiritualmente più elevati del periodo. Sono pitture, sculture di installazione, tra le quali il presepio. Si spazia dall'icona alla nuova figurazione, dalla fiber art alla poesia visiva, dal disegno umoristico all'arte povera. Sono artisti italiani, ma anche artisti che vengono da Francia, Spagna, Germania, Albania, Romania, Ucraina e Russia, e ancora più lontano, da Cuba. Tante personalità e tanti modi di esprimere l'aspirazione al trascendente che è in tutti gli uomini. L'ingresso è libero. Venite, venite a Doremos.